eccoci ciao ragazze oggi facciamo l'attività nel pomeriggio perché la mattina è stata veramente impegnativa per quel che riguarda lo stilare i vari calendari per i corsi nuovi che stanno partendo sia di fitto al pieno alla grande e poi anche tutto quello che sta partendo sugli studi e per quanto riguarda poi la personalizzazione delle attività quindi una possibilità per la possibilità anche di fare un allenamento personalizzato per andare a migliorare ulteriormente i risultati in questo periodo ebbene quindi veniamo noi e proviamo anche oggi a dedicarci ai 100 bar peace finamento a terra partiamo e vediamo se riesco ad arrivare anche oggi alla fine grazie Ragazze, siamo partiti in cinque, mamma mia oggi è partita, ho ancora nelle gambe, la corsetta di montagna, mi sto faticando, prego, ultimi cinque, proviamo a cento, pronti, tre, due, uno, via, uno, due, tre, quattro, cinque, ho faticato tantissimo, ok, l'ultima settimana dai, e poi si riparte con i corsi, su pista, su strada, nel studio, ciao ragazzi, a dopo, grazie 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 grazie